bene ragazzi ciao da nick e bentornati qua su gta 5 online non sono solo stiamo per cominciare una nuova gara chi vuole salutare saluti allora scelgo un po super da punto a facciamo da gta dice non si spara mai spariamo un po voglio fare una gara un po diversa un po più piccante lo so che tanto morirò però ci si prova dai si parte ragazzi si parte si parte in quarta con le armi in pugno oltretutto sperando sempre che la mia connessione abbia pietà di me che non ne ha avuta molto ultimamente sta caricando sta avviando sta praticamente come su un tapis rullante sta un po insomma allora questa è la mia macchina che pio sono un po indeciso bene devo scegliere in ferretta più questo e via va poi acquista 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 spendi spendi sono pronto a dice che gente che c'era uno che stava scommettendo 10 mila dollari su di me soldi ma soldi persi mi sa perché io non sono granché bravo allora durante la gara gta puoi uscire da veicolo raccogliere armi e uccidere gli avversari questo mi ricordo un film allora ragazzi parto in prima qui mi sa che mo comincia un po a essere pericolosa l'azione guarda guarda la mia povera macchina uscita dal concessionario o madonna esplodono le macchine qui davanti a me c'è anche c'è anche il proprietario di una macchina che si lamenta aiuto no ma avete fatto mancare di brutto no ma avete fatto ma dai ma dai non è poi tanto persa l'azione perché comunque lì davanti a quest'ora si staranno ammazzando ok dai 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 c'è sempre l'imperatore qui con me o mamma non l'ho potuto prendere non l'ho potuto prendere oddio ce la posso ancora fare a non essere massacrato forse ok qualcuno ha preso ma perché prendi me non prendi il camper e basta e vabbè dai ma porca pure il trattore ma che cavolo viene a tratturare qua nel deserto sto tipo ma vabbè dai ancora non è tutto perso forse ancora nick c'ha una speranza di raggiungere qualcuno e farsi ammazzare probabilmente c'è un tipo con una macchina strana no era un boe che era il coso del colpo ai 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 ecco un tizio con la macchina blu spero che non aspettava me per darmi un confetto in faccia ok sono dietro sono ancora dietro il tipo con la macchina blu che molto gentilmente mi ha dato una spinta oh questo è interessante io sono con la macchina blu però sono perso ma come si usa sto specie di turbo qua non c'ho capito niente qualcosa sarà successo buu disgraziato con sta macchina del cavolo guarda che cosa mi va a combinare no 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 devo superare sto tipo no porca tutte le sfinge le becco io cosa c'è tutte le macchine che passano ci vado a finire incontro non è una cosa molto bella devo dire non è stato molto bello stato un po triste va bene dai dai mi rifarò ancora dai beh c'è qualcuno dietro di me quindi dai di peggio c'è dai guarda questi si sparano pure all'arrivo non sono mai contenti si è arrivato cinquinto come è che sono arrivato quinto ma vediamo spero che si sbaglia il gioco ogni tanto dare delle cagate enormi quindi vediamo mi ha dato 590 punti rp e vince sempre lui sembra che c'è proprio il telepass per vincere ok adesso arrivato quinto si addirittura 30 secondi di differenza che roba e va bene e va bene se fanno sparatori ogni tanto ragazzi dai facciamo qualcosa che si spara il contro di giro bercy che si fa una gara da punto a punto quello cos'è ma quella del jet li un po già tanto perché avete già scelto che non sarebbe già scelto va bene sicuramente sarà un'altra gara vero sarà un'altra gara immagino ci ho fatto caso va bene dai ok non è non è un problema ce la posso ancora fare ce la potrei ancora fare sportive prendiamo le super stavolta facciamo sempre da gta dai che carino però senza traffico che a qualcuno non piace e anche a me non ho avuto molta fortuna col traffico cerco di invitare qualcuno magari il l'ottavo guidatore semmai no non c'è nessuno ok sta entrando sta entrando come ok si pare parte un'altra gara da gta un'altra gara gta dai 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 cosa è quella specie di numero che mi appare lab ok tempo che carica la sessione questa connessione anni 40 caricherà caricherà eccoci qua stavolta piaccita la scimmia di talzan praticamente tutto al massimo pronto a giocare sono pronto pronto a farmi esplodere mille pezzi la mia povera macchinetta la mia scatoletta non te l'ha fatta scegliere forse sei troppo forte per quello è un po per avvantaggiare noi poveri mortali e magari hanno dato una 500 dai una panda ok parto secondo niente non sono riuscito a beccare l'istante ideale mi sono fatto superare di nuovo da tutti mannaggia c'ho le armi c'ho le armi che è questo me stavo per suicidare ma che razza di sistema è vero lei mi stavo per suicidare con i razzi ma che è sta storia ho beccato dei soldi qualcuno li ha persi dal finestrino mamma devo farcela roberto vedo che sta sudando per vincere ancora roberto ha sbagliato è andato a c'è con tutta la strada disponibile lui va a prendere proprio il mezzo che bello mi fate passare ma quanto siete gentili ma molto gentili sono secondo involontariamente senza fare nulla a parte guidare ok c'ho un tipo dietro di me che spero che non è equipaggiato con le armi atomiche e di fatti già ho sentito uno sparo un poco rassicurante perché macchina devi sbandare invece di andare dritta come tutte le altre macchine l'ho preso wow eh vai secondo 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 questo secondo oh eh 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 è sempre l'ultimo e beh oh oh ma cosa spingi entro eh ma lui ti spinge perchè vuole che arrivi prima no? ho visto cosa ha fatto il tipo con la macchina nera per peccato che non gli è bastato il tempo ragazzi in asparatoria questa volta siete disposti? tanto per cambiare un pochettino dai facciamo i complimenti ad Alex che è arrivato prima è arrivato primo e prima ho fatto un po' di record per mondiale addirittura ammazza dieci secondi eh mica male dieci secondi oh ragazzi stavolta top fan ragazzi famosa top fan non lo so che cos'è però io vedo aeri e a me i cacci mi piacciono si aggiorna 4 ma perchè uffa mi aggiorna dai allora c'è una sparatoria qua no un'altra volta aggiorna perchè a me non mi ci fa andare su aggiorna? bè ok quindi che scegliete ragazzi? oh dai in deathmatch dai 3 su 2 oh finalmente ragazzi si sparo un pochettino dai e da un po' che non sparo beh c'è differenza ovviamente tra sparare e uccidere quindi sparare è facile se riuscirò a accendare qualcosa e vedremo mi invia una pizza di a tocca che che? che devo fa? numero di squadre deathmatch limite di tempo no facciamo dieci minuti punteggio facciamo dieci minuti dai un deathmatch di dieci minuti un qualcosa un po' un po' di spara spara dai anche se so che mi finirà male come al solito però ma di che ci prova dai se non ci prova aspettiamo l'imperatore entrerà per ultimo qualcuno ci ha abbandonati allora partiamo dai vabbè sarà un po' sbilanciato però tanto io non sono un gran che quindi non sarà un tutto sto gran sbilanciamento dai tempo che si avvia questa connessione favolosa giubbotto ce l'ho sono pronto pronto e di fatti vedi la squadra da tre siamo qua bene ok siamo una squadra piccolina pochi ma buoni come si suol dire pochi ma buoni mancano 15 secondi all'atterraggio no? al decollo non si sa chi vince no no non si sa non si sa ma io di sicuro no perché so peggio che a guidare a sparare purtroppo comunque ci proverò lo stesso ci provo come si suol dire è meglio provare che non me la ricordo più comunque qualcuno se la ricorda è meglio partecipare ma come cacchio faceva non me la ricordo comunque siamo in una villa di un ricco texano allora c'è il tipo dietro di me che già mi vuole morto non so perché oh c'è qualcuno cacchio ai madonna ho preso la siepe ho preso il muro ho preso le mattonelle tutto tranne che pigliare il tipo ok mi sa che la mira automatica sbilange invece di aiutare e anche di parecchio c'era qualcuno la non so perché ma penso di averlo visto un tipo poco poco rassicurante oh è morto finalmente qualcuno muore ok cercherò nel possibile magari ne becco un altro ah ok alla fine si è deciso che era giusto per lui morire aia mi hanno trucidato eh purtroppo due contro uno è un po' un numero a svantaggio dai 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 qualcuno mi apre la finestra no ma dove me cacchio è che mi trovo ho leggermente paura di fare la fine del topo drivellato no guarda che sfiga stavo andando a pigliare il tipo c'ero vicino gli davo un bacetto sulla guancia non me l'hanno permesso chi è sta roba che c'è qua sei una mazza da golf ma dai ma datemi un'arma decente non ho una mazza da golf si ma muori non è che ti devo sparare 50 colpi in faccia prima che ti decidi o c'ho qualcuno alle calcagne non lo so neanche io no dov'era non l'ho visto oh che peccato come sono sfigato così ok punto di partenza punto di morte mi sa c'è qualcuno che guida la macchina sento ok chi è dove dove oh cacchio cado a faccia in giù vicino alla fontana mi ricorda un film che neanche mi ricordo come si chiama e neanche mi ricordo se l'ho mai visto effettivamente questo film ok vai si imperatore vai oh è mio è mio ma è morto non è morto ok se due vanno di qua Nick va a farsi ammazzare dall'altro lato altrimenti che gusto c'è c'è qualcuno eccolo là e vai che bello l'ho preso eh sta esplodendo mezzo mondo qua chissà perché mi fido poco ad andare avanti c'è troppo silenzio no di là bravo chi è che caga granate eh muori e vai quanti colpi mi son rimasti che quattro che devo fa devo pisciarli eh no merda mo si mette male per Nick e vai no perché 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 se non lo facevo tu mi avresti trattato un po' male io non ero molto d'accordo wow che bello ci vedo rosso mi devo preoccupare ma sa quante scale potevano anche mettere un ascensore sono ricchi ma mettono le scale perché sento sento dei brutti passi poco raccomandabili ok silenzio chissà dove sono i cattivi questi ci sparano dall'alto poco raccomandabili perché il mio personaggio ubriaco invece di andare a destra andava a sinistra shit e vai no si o no l'ho ammazzato o oppure sono morto d'infarto che è successo non ci ho capito niente ok siamo ancora qua ci si può chi è quello là sopra è amico o nemico è amico ho trovato non si sa cosa se fosse qualcuno no annaggia vengono quattro minuti e nicchè se fa solo triva là no 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 passerà di qua l'amico scendo dollari per l'assassino dello sciamano ah no no non c'era scritto sciamano che cacchio c'era scritto eh dovevi pur morire no avrai anche il diritto no tu si io allora mannaggia a te mi hai fatto cacassotto andiamo a vedere oh guarda no il primo si ma il il secondo e il terzo mi pare un po' esagerato va bene aumento di rango io sono aumentato tutto il rango beeello grilletto facile mi hanno dato raga ahiae ho visto il tipo che ha detto no 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 nicchè perché l'hai fatto ti amo ti voglio bene una roba simile mi pare che mi aveva detto eh mannaggia niente non ce l'ho fatta siete carrozzati bene avete la pelle dura e quello oh chi è quello un uomo cattivo ecco lo vedi ce l'ha proprio con me mi ama dimmelo no ce l'ha con me mi vuole così bene serie di morti certo prima li faccio io poi tutto al contrario ok mi devo preoccupare o devo essere felice allora qui c'è gente poco raccomandabile mi avevano detto dietro le spalle niente da fare niente da fare non ho avuto il tempo di fare il retromarcia purtroppo non sono riuscito a ingranare la marcia e non niente da fare allora questa è un'arma decente ma è il mio corpo che è troppo fragile è quello il problema mi sto leggermente cagando sotto non mi fido granché di andare di qua non so il perché guardate va sempre una scimmia una scimmietta come faccio le accorpazie chiacchio e che spara oh mamma se se mo mi serve il paracadute pure per buttarmi da due metri dai dove sono andati tutti sti cattivoni oh mamma sento dei passi poco raccomandabili c'è qualcuno che guida chi gli ha dato la patente oh ma che fine avete fatto sono andati tutti a funghi oh yes vai tu per primo fatta ammazzare dai mi rimangio quello che ho detto o c'è qualcuno di qua c'è qualcuno di qua c'era qualcuno di qua mi sento leggermente preoccupato oh cacchio ah un'altra volta è un vizio dai guarda di là guarda di là no si si e no no dai mancano un paio di secondi e siamo in tre siamo in tre comunque ce la siamo diciamo tutto sommato cavata bene magari soprattutto i miei compagni io non sono molto molto bravo però comunque dai ce la siamo tutto sommato cavata peccato che peccato che non ma è finita o non è finita è finita sì peccato che abbiamo perso per un punto per un punto tutto sommato e va bene dai è stata comunque peccato che è bella bella 11.000 dollari a me ancora non mi ha detto niente io vedo una macchina e non mi segna altro ora perdente ma lo dice pure guarda che sfacciati va bene a me aspetta che mi ha dato a me mi ha dato 4940 e vabbè dai almeno mi compro il pane va bene oh ragazzi io concludo qui sto gameplay che si sta per fare un po' tardi tra poco c'è da andare a mangiare quindi mi fermo qui dove mi trovo io morti sono arrivato ultimo ovviamente vabbè dai comunque sono contento va bene ragazzi spero che questo gameplay e soprattutto voi che avete giocato con me vi siete divertiti io ragazzi vi saluto ci si becca presto in un prossimo video e ci becchiamo raga eh